Ma lo mette seduto, no? Ma pure in piedi qua da dentro Perché sono bastardo Infatti sei grillito Vedi che le cose coincidono Questa è una bella, no? Chi invece guarda qui, queste, vengono e spegne la tv rimane con la condizione di quello che ha detto il 25 ovvero che è giusto, guarda, Giorgio Guarda, ma non è giusto Non è giusto Sono le donne votano in giro Bacchiosi! 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 Bravo il capo Bravissimo, è il capo dell'inclusione Politicamente scordato Buccone! Va dai Tu hai toccato Monti, Buccone! Li redditi dalla tentativa niente I poliziotti morivano e sono stati ammazzati Dallo Stato andiamo noi a prenderli vergognati i poliziotti sono morti Vergoglia! Dove nevele vergognare state leggendo un presidente dei partiti Napolitano è un Presidente di partiti a questo punto, non dei cittadini si chiama Presidente della Repubblica, non Presidente dei partiti non si chiama Presidente della Repubblica, non si chiama Presidente della Repubblica non si chiama Presidente della Repubblica non si chiama Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio e Ministri e dimostriamo che i cittadini sono decisamente migliori della classe dirigente che li ha gestito bravo 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 è mai successo, adesso a me che vi devo dare a voi la magna nera più semplicemente, ragazzi non ci arrabbiamo troppo con i giornalisti, lo so, le critiche le abbiamo fatte, lo sappiamo che il sistema informativistico è un sistema marcio, lo sappiamo, però non ce la prendiamo è importante ora fare universi salvi, ma non ce la prendiamo, non violenta, non ce la prendiamo no, ma non ce la prendiamo, non ce la prendiamo, non ce la prendiamo, non ce la prendiamo, non Grazie.